Allora, diciamo che non giocavo da un po', ho fatto 70 minuti e ho cercato di prendere fiducia, cercando di fare le cose più facili possibili, perché credo che durante una partita, specialmente per una persona che non gioca da un po', sia fondamentale avere fiducia e prenderlo facendo le cose facili. Quindi ho cercato di fare quello che mi viene bene e sono molto felice di quello che ha detto. Non era proprio pressione, però volevo fare bene perché mi alleno tutti i giorni, do tanto e non volevo sprecare questa occasione. Siamo stati bravi a creare tanto, quello che proponiamo è comunque un gioco molto più positivo in cui si cerca di avere la palla per il maggior tempo possibile, siamo stati bravi a non concedere più di tanto all'avversario e forse dovremmo essere stati un pochino più cinici, potevamo fare dei gol e non abbiamo sfruttato alcune occasioni. Allora, come si suol dire, vincere aiuta a vincere. Quindi per noi oggi vincere era importante, fare prestazione, dimostrare che comunque ci interessa andare avanti, perché è quello che il mister ha trasmesso anche in settimana, quindi credo che la vittoria sia il coronamento del lavoro che facciamo durante la settimana. Sì, abbiamo fatto tre prestazioni che forse meritavano più punti di quelli che abbiamo portato a casa. Ovviamente quella di domenica è una partita importante e noi vogliamo fare punti, vogliamo vincere, però allo stesso tempo siamo confortati dal fatto che nonostante non sia ancora arrivata la vittoria, le prestazioni parlano per noi, quindi abbiamo incontrato comunque tra avversari molto forti tra i contendenti per il campionato e siamo molto positivi.